L'ordine del giorno è approvato con 34 voti favorevoli e un voto contrario. Quindi prendiamo atto e chiariamo sciolta la seduta, l'appuntamento è oggi alle 16 presso l'omicidro per il Consiglio Comunale relativo alle problematiche dell'Università dell'Aquila. Seduta all'insegna della celerità stamane per il Consiglio Comunale dell'Aquila, chiamato a riunirsi all'aperto nel cortile dell'ospedale San Salvatore per affrontare i problemi della sanità, o almeno così doveva essere. In realtà ci si è limitati soltanto ad approvare l'atto bipartisan sottoscritto dalla Commissione Consigliare Politiche Sociali presentato nella precedente riunione contro ogni ipotesi di svantellamento e delocalizzazione di unità operative dell'ospedale San Salvatore senza lasciare spazio a dibattiti o interventi. Tra i presenti, invitati a prendere parte all'Assemblea odierna, il vicepresidente del Consiglio regionale Giorgio De Matteis, il consigliere regionale Luca Ricciuti e la preside della Facoltà di Medicina, la professoressa Maria Grazia Cifone, i quali speravano in un qualcosa di più che non una succinta lettura e votazione. Il documento, sorto per rispondere ai problemi della sanità venuti fuori nella nostra città dopo il terremoto, ritiene necessaria l'istituzione di una commissione speciale per la sanità, i cui componenti siano rappresentativi dell'intero Consiglio, affiancando in questo modo il primo cittadino nell'affrontare le criticità legate al comparto sanitario. La conferenza capigruppo ha convocato questa riunione qui per dare una solennità di questo voto, mentre un consiglio comunale ci sarà oggi un po' di giro per parlare dell'università. Quindi rispetto a una situazione che era maturata nei giorni scorsi della polemica per quanto riguarda questa vicenda dei convenzionamenti, che si lega molto alle organizzazioni della rete spedaliere. In 36, presenti all'Assemblea odierna, l'atto è passato con 35 voti a favore, eccezione fatta per quello del capogruppo della destra al Consiglio Comunale, Luigi Deramo, che ha bollato la seduta come l'ennesima farza. Cialente è riuscito a far credere che le responsabilità di queste scelerate scelte possano ricadere sulla coalizione di centrodestra e la regione Abruzzo. Noi a questo gioco non giochiamo, certo è che appare preoccupante che parte del centrodestra aquilano non abbia capito questo, ma l'importante è che ci siamo noi che lo facciamo comprendere agli aquilani. Questo documento nasce per difendere un osocomio prestigioso, qual è quello dell'Aquila, ha precisato il consigliere Bernardi, che ha rilanciato la proposta del progetto guerrato di un apparente nuovo ospedale con il compito di integrare quello già in essere. Col passato non si fa la politica, né si soddisfano le esigenze dei cittadini. L'ospedale nuovo non si farà, bisognerà però integrare questa struttura anche con un progetto finanziario, che è però vero, di natura sanitaria, che ottimizzi quelle che potevano essere le problematiche presisma e stabilisca il nesso vero tra struttura fisica e struttura organizzativa che caratterizza gli ospedali di eccellenza di questa regione.